L'hotel Il Bucaneve è un albergo a tre stelle completamente nuovo situato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo vista a 500 metri dal centro di vista del parco e 800 metri sia dal centro storico di Pescasseroli che dagli impianti di risalita Immerso nel verde e circondato da monti, è la sede ideale per trascorrere un tranquillo soggiorno con possibilità di sciare, fare escursioni, passeggiate a cavallo in bicicletta L'hotel dispone di confortevoli camere arredate in stile arte povera, tutte con bagno, tv e telefono diretto L'hotel dispone inoltre di una graziosa veranda con vista sui verdi boschi nella quale è servita la prima colazione e di una piscina all'aperto dove in estate i nostri ospiti possono rilassarsi e godere di un'aria pulita e delle bellezze naturali del parco Particolarmente curata è la cucina, sempre alla ricerca di antichi sapori, prodotti caserecci, piatti tipici locali e nazionali Si riservano condizioni particolari per gruppi e si propongono sconti per ski pass Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.hotelbucaneve.net www.hotelbucaneve.net